Cleos include molte tipologie di report predefiniti. Per trovarli, è necessario aprire il modulo generale Report. Nella sezione Report, sarà possibile generare un report selezionando quello interessato tra i report disponibili, suddivisi per ambiente. È possibile anche generare il report inserendo dei filtri dal tasto Aggiungi filtro. Ad esempio, se abbiamo necessità di estrarre le pratiche amministrative in cui Mario Rossi è l'avvocato affidatario, scegliamo uno dei report in ambiente fascicoli e clicchiamo su Inserisci filtro. Scegliamo Colleghi di studio, selezioniamo il nome del collega e il ruolo. Per estrarre solo le pratiche amministrative, aggiungiamo un altro filtro. Clicchiamo su Generali e scegliamo il tipo del fascicolo. Una volta impostati tutti i filtri, scegliamo il formato del report da generare e clicchiamo su Genere. Verrà scaricato il file nel formato scelto, che sarà possibile consultare.